Le parole di questo libro ci dimostrano come l'età non conti per capire il cuore dei giovani. La marcia in più di questo Papa sta nella sua capacità di vedere dentro al cuore delle persone e del mondo. Lo ha detto Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI durante la presentazione a Roma di Dio e Giovane. Il libro intervista Papa Francesco, nato da una conversazione con Thomas Leoncini. Ascoltiamo. C'è un uomo di 80 anni suonati a cui facciamo fatica a stare dietro. C'è chi continua a dire o pensare che sia questione di visione di chiesa, di una sorta di posizionamento pastorale. In realtà questo libro è in grado di dimostrare che esistono persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare. Per diventarne capaci però è necessario lo sguardo del cuore e della fede, l'unico in grado di mostrarci il volto di Dio e dei fratelli. Lo ha detto Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI durante la presentazione a Roma di Dio e Giovane, libro intervista Papa Francesco, nato da una conversazione con Thomas Leoncini. Le parole di questo libro ci dimostrano come l'età non conti per capire il cuore dei giovani. La marcia in più di questo Papa, quella che ci impedisce di stargli a fianco e che ci costringerà sempre a inseguirlo. Sta proprio nella sua capacità di vedere dentro al cuore delle persone e del mondo, ha sottolineato il presule. Monsignor Galantino ha indicato poi il pregio di questo libro intervista, avere un linguaggio totalmente lontano da quello dei documenti ufficiali. Non patisce della preoccupazione di una dottrina ineccepibile, ma lasciandosi andare allo stile della conversazione, riesce a raccontare con semplicità cose profonde per certi versi sorprendenti. Non perché nuove, ma perché c'è bisogno di qualcuno che ce le faccia capire. In questo, una volta di più, Papa Francesco si rivela un maestro. La prima sorpresa in chi legge è questa connessione forte che il Papa istituisce tra i giovani e gli anziani, immaginando la vita come un dialogo continuo e fecondo tra le generazioni. Il presule ha segnalato l'importanza di un grande recupero del dialogo intergenerazionale, considerato necessario per la vita e la crescita dei più giovani. Secondo Monsignor Galantino, è interessante anche lo spazio dato all'adolescenza. Sono le pagine dove riconosciamo il grande lavoro del professor Bergoglio. I suoi molti anni di servizio nella scuola li hanno lasciato dentro una passione educativa e una capacità di dedizione e cura verso i più giovani particolarmente forte. È la condizione per cominciare a capire il mondo giovanile senza partire dai dati statistici dell'ultima indagine sociologica.